A poche ore dal tour elettorale in Puglia, Silvio Berlusconi ha piena consapevolezza che nella terra di Raffaele Fitto si materializzi il tracollo di Forza Italia. Più che una semplice ipotesi, la stessa è corroborata dal sondaggio firmato IPR Marketing per Porta a Porta. Se Emiliano viene già incoronato come Papa, Re e Cardinale, attestandosi ripetutamente al di sopra del 46%, la novità è dei Cinque Stelle, che sul podio seguirebbero a ruota il gladiatore, conquistando il 20% delle preferenze. Fanalini di coda immoderati, quelli di Adriana Polibortone col 17% e a tre punti di distanza quelli di Francesco Schittulli. Le cifre, da prendere con la dovuta cautela, non fanno fare salti di gioia al centrodestra, ma per il coordinatore regionale Luigi Vitali, la consolazione di aver bruciato l'avversario sostenuto da Fitto vale più di una Coppa dei Campioni. Gli azzurri puntano sull'arrivo nelle prossime ore di Berlusconi e sulle capacità taumaturgiche del Gran Capo, la cui presenza potrebbe catalizzare voti verso l'ex senatrice Salentina, recuperando lo svantaggio rispetto ai pentastellati. Nel sondaggio farà brividire la percentuale di indecisi al 24% e l'astensione dal 28 al 30. Se si invoca il miracolo, quello vero sarebbe convincere i pugliesi a recarsi in cabina. Nell'aria permane però la certezza che anche questa partita si chiuda sul nascere. Ma l'idea di dare un dispiacere a Schittulli e di non farlo entrare neanche in consiglio regionale, val bene per Berlusconi anche una preghiera sulla tomba di Padre Pio.